Qualiano periferie abbandonate. Erba incolta, tombini otturati, buche, marciapiedi devastati dalla vegetazione. Questo è lo scenario in cui si trovano via Toscanini e via Rossini, due strade parallele della periferia di Qualiano. I cittadini della zona sono costretti a camminare sulla sede stradale perché non possono impegnare il marciapiede. A tutto ciò si aggiunge l'abbandono selvaggio dei rifiuti da parte di persone che non hanno a cuore il decoro urbano. Operazioni di diserbo e di ripristino dei marciapiedi per consentire un agevole passaggio sono solo un miraggio della calura estiva. Tombini otturati dalle erbacce o da qualche cittadino per evitare che risalgano topi e blatte. Il tutto nella rabbia che i cittadini sfogano sui social. Vi è infatti una parte della città che gode di feste ed eventi e l'altra che resta perennemente nel degrado. Necessari interventi urgenti, altrimenti si rischia di creare zone di serie A e zone di serie B. L'amministrazione, impegnata in feste e festicciole, volga lo sguardo anche alle periferie e si attivi quanto prima per risolvere le criticità.